Possiamo senz'altro affermare, care ragazze, che... Dammi, dammi il filo. Mi raccomando di non ridere, dovete proprio far finta di non vedere nulla. Questo sale si chiama... Esame di lente. Esame... Esame tranquillo. Esame patente. Voi siete di Roma? Io no. E di dove siete? Della provincia. Io vivo molto in campagna. Avete dei terreni? Sì. Dove? Qua e là, un po' in ogni posto. E cosa coltivate nei vostri terreni? Peperoni. Sono peperoni? Sì. Sì, mi piacciono tanto. Se sapeste com'è bello vedere quei campi esterminati tutti pieni di peperoni. Ah, immagino. Del resto tutto è bello quando si sa guardare con occhi sereni. E voi sapete guardare con... Oh, sì. Specialmente quando le cose belle mi appaiono ad un tratto così miracolosamente. Sì. Sì.